Sindaco, una grande notizia. Oggi riaprono i musei a Chieti, la Civitella e Villa Frigeri. Tornano a nuova vita, gli splendori della città di Chieti. Una grande notizia e una grande gioia. Ovviamente era da tempo che aspettavamo questo momento e tenere chiuse le nostre bellezze, tenere chiusi i nostri musei per tanto tempo è stato un vulnus per la nostra città. Ovviamente la mia amministrazione ha pensato a utilizzare i percettori di reddito di cittadinanza, i quali si sono prestati molto bene a questo nuovo compito. Possiamo ridare alla città, ma soprattutto ai turisti che già comincio a vedere numerosi passeggiare nella nostra città, la fruizione di bellezze architettoniche, museali e archeologiche che probabilmente poche città hanno in Italia. I nostri due musei archeologici nazionali riaprono al pubblico grazie a un intervento determinante in sinergia con la direzione dei musei del Comune e dell'amministrazione comunale che ha messo a disposizione i 12 unità PUC a supporto del personale museale. Si uniscono queste due riaperture a quanto già fatto da parte del Comune con il Museo Barbella che è già aperto da diverse settimane e quindi torna alla piena fruizione il nostro patrimonio museale. Stiamo lavorando a delle iniziative estive in sinergia con le associazioni culturali del territorio, con gli artisti locali, ma con un trio di direttori artistici molto autorevole che è il composto dal maestro Pellegrino, il maestro Mazzoccante e il maestro Michele Di Toro. Stiamo lavorando a questa programmazione che nei prossimi giorni verrà presentata alla città.